Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere gli obiettivi sono cambiati, abbiamo deciso di cambiarli perché alcuni obiettivi precedenti erano veramente assurdi e allungavano veramente molto la durata della serie e quindi abbiamo deciso di aggiungerne degli altri, anche di nostra invenzione e lasciare alcuni di quelli che erano fattibili diciamo di prima. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, se vi piace la serie, condividete e iscrivetevi in caso vogliete seguirci. Eccoci qua con il quinto episodio di Skyblock, questa volta sul mio canale e se non avete capito nulla dei prossimi episodi, passate dal canale di Fanto e ci sarà tutto spiegato nel quarto episodio. Perché? Perché? Perché abbiamo caricato due episodi a testa per, vabbè abbiamo deciso così perché non è proprio... Equilibrare, per equilibrare esatto. E da oggi faremo uno e uno. Esatto, facciamo uno e uno. Ah, salve ragazzi, dimenticate. Salutare non... non picchiate. Ambi, hai fatto una laggata, non so se hai sentito nel video ma hai fatto una laggata. Benissimo, oggi in pratica dovremmo. Allora, ragazzi, se vedete è tanta cobblestone, che abbiamo tanta cobblestone, non ci sa, siamo spaccate prima di inizio la puntata perché è un po' noioso vederci spaccare la cobblestone. Cioè, vi capisco. E giustamente... giustamente adesso andiamo a spaccare gli alberi. Vabbè, gli alberi sono un po' più emozionanti, dai. Oh yeah. Quadrati. Dai, brutto strano. Ah, se vedete la mia texture pack è cambiata, questa qua è un po' più... L'è cambiata, Michele? Sì, mi sembra un po' più carina, è molto semplice. Se qualcuno commenta con scritto che bella sta texture pack me la metti in descrizione, la metto in descrizione, altrimenti non la metto. Perché? Mettila per scindere. Vabbè, sì, vabbè, la metto per scindere, pazienza. E... oh, è molto carina. Allora, facciamo un po'... dobbiamo fare una casetta. Oggi, oggi ci siamo prefissati l'obiettivo di costruirci la nostra casetta. Sì, una casetta, anche se non servirà molto perché tanto ci sono torci ovunque e non abbiamo i letti, vabbè. Vabbè, home sweet home, ma... Ok, io terrò premuto sempre shift. Aspetta, aspetta, se ce la facciamo tipo qua al bordo... Dove? Io volevo fare da questa parte qui. Ma scusa, perché ti complichi la vita? Eh, ma perché di lì c'è la via, boh... Ok, vabbè, facciamo così. Io tengo sempre premuto shift, non lo mollo più. Vabbè, vabbè, vabbè. Anzi, aspetta, facciamo una cosa. Allora, mi tengo soltanto il piccone perché ho paura di buttare giù la spada, non sono incapace io. Mi via le assi di legno, tengo solo la cobblestone. Allora, inchiniamoci. Lol. Inchiniamoci. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. No, aspetta, aspetta. Forse... Oh tu, oh? Oh, putt. Forse... La tua idea forse era un pochino migliore. Sì, foro. Era antiestetica, volevo proponere. Vabbè, comunque... Sì, espandiamo... Oh, guarda un alberello qua. Ah, ho altri tanti alberelli. Infatti li vado a mettere via perché ho paura. Sì, mettiamoli. Non danna, io mi tremano le mani. Tutto l'Alzheimer in pratica, no? Ma l'Alzheimer è quello che... Sì, no... Ah, beh, quello, capito. Quello che ti fa tremare le mani... Non mi ricordo come si chiama. Quello è il morbo di Parkinson. Esatto, il morbo... Vabbè, raga, stessa cosa, dai. Alzheimer, il morbo di Parkinson. Aspetta. Wait. Ok. Molta... Dai. Con molta attenzione, ora... Sì, ma io c'ho... Allora, shift. Si prema col mignolo. Io c'ho il mignolo... Cioè, c'ho il mignolo nigno e quindi non riesco a cliccare bene. Aspetta, però... Non è che stai espandendo un po' troppo. Cioè, facciamo una casetta, non mica facciamo una villa, oppure non facciamo mica un buco. Io volevo fare un buco, non so. No, dai, dai. Non abbiamo abbastanza cobblestone, cioè se fai così... Eh, fai chiudi quest'angolo qui e la facciamo qua. Facciamo... No, vabbè, così no, viene una cosa lunghissima e strettissima. Oh mio Dio, non abbiamo preso il tempo! Oh mio Dio! Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Vabbè, diciamo che sono partite da... Le 7, sono le 7.03. Sono partite le 7, facciamo 15 minuti da adesso. Cioè, dalle 7. Oh mio piccone schifoso cinese! No, non devo saltare qua sopra. Vabbè, ehm... Facciamo un po' di cobblestone. Tu, tu, tu. Non è un piccone. Allora, io intanto faccio la casa, poi... Tu fai il... Come ti avevo detto prima, la via. Se riesci. Tanto mi metto qua a spaccare un po' di cobblestone. Come la facciamo? Di legno? Eh beh, sì, per forza, un po'. Cobblestone... Cioè, una merda sarebbe, perché poi se la devo modificare, non rompere la cobblestone. Sprechiamo il suo piccone. Allora, facciamo l'angolo di cobblestone. Cioè, facciamo... Lunga 4... Cioè... Aspetta, questa è profonda 4 e lunga milioni di chilometri. Ehm... No, spandi ancora un po' un pochetto. Sprechiamo ancora un po'. Eh, sì, esatto. Non farla proprio lunga, che sembra poi una specie di... Non so io. Uno stecco. Uno stick. Uno stick. Ok, dai. Madonna, come vi starete... Come vi starete appassionando a vedermi rompere la cobblestone. Sarà veramente una cosa magistrale. Ok, ehm... Cos'è che dobbiamo spiegare? Ok, allora. Qua... Madonna, io c'ho paura di cadere. C'ho paura di cadere. Non è bello. Io sono già caduto due volte. Una volta, vabbè... Lasciamo stare i dettagli. Erano ancora le prove tecniche per iniziare la mappa. E poi invece l'altra poi mi è anche ripreso. E quindi è stato bellissimo proprio. Ehm... Ah, noto adesso che sto per morire di fame. Mannaggia. C'ho due cuori e mezzo. Due quadratini. Sì, no, due. Vabbè, cosciotti, quelli che siano. Cosciotti. Ehm... Cosciotti. Alberillo. Io mi dedico gli scher... Uh... Tecnico, tecnico, tecnico. Tecnico, te-tico. Madonna, ma è lentissimo rompere sto cazzo di albero. Dai, alberello. Dai, alberello. Dai, alberello. Oh, shit. Oh, yeah. Quindi, per chi non l'avesse ancora capito, alla fin fine, praticamente caricheremo un episodio a testa di Skyblock. Cioè, dopo questo ci sarà quello di Fanto sul canale di Fanto. E quindi dovete iscrivervi per forza da lui, se vi interessa. E stessa cosa, chi arriva da Fanto si iscriva da me, ovviamente, perché se no si perde un episodio sì, un episodio o no. Imperpreti o B-Views? Oh, yeah. Ma forse questa cosa qua che ti sto dicendo la spiegherò poi all'inizio del gioco. Vabbè, sì, facendo quella cosa degli obiettivi, ma... Dettagli, dettagli. Meglio ricordarle le cose alle persone, perché è umano dimenticarsene. Non ce la farò mai a prossimare. Sta diventando notte. Torce. Eh, piazza un bel po' di torce. Che l'ultima volta lì si spunta delle sorpresine. Sì, ecco qua, che per esempio... Allora, aspetta. Facciamo il legno. Il legno, il legno. Oddio. Gimmi legno. Cos'è sta magia? Magia nera. What? Giro e il germoglio gira. Allora, vedete che il germoglio è rentato verso sinistra. No, non possono vederlo, non possono vederlo, lol. Ah. Non è un tuo filmato. No, è vero. Lol. È vero. Sì, comunque ci sono io qua, se vuoi farlo vedere. Eh, ma non credo. Cioè, non credo sia la stessa textura. Sto morendo. Avrei un germoglio quadrato. Sì, no, io c'ho una specie di stecchetto semplicissimo. Lol, mi è caduto un germoglio in faccia. Ok, posso farla a casa così, va bene, dici. O posso... Devo spandere ancora un po'. Sì, ho scoperto. Oh, 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 ho scoperto il trucco. No, insomma, eh... Mi cago addosso. Sì, facciamone un altro, però, dai. Facciamo ancora due righe. Oh, ho le torce, mi stavo dimenticando. Oddio, è una corsa contro il tempo, è una corsa contro il tempo. Sì, eh, muoviti. Torce. Lol. Allora, intanto, finì, no, aspetta. Perché non corre? Così, così... O meglio, adesso arrivo la mia... Così facceremo ancora una righetta. Corri, guardami! Lol. Oh. Ok, facciamo una musichetta. Ok, io... Oh, piglia la cesta che può servire. Eh, eh. Il problema è che si è spazzata. No, non posso più correre. Ah, ho scoperto, ho scoperto una cosa, molto, molto, eh, che può servire anche a quelli che ascoltano, magari stanno facendo già una serie di loro, che ne so. Quando mangi carne marcia, non bisogna correre. Non so se lo sapevi. In pratica, se corri, ti toglie... Ti toglie... Fame, praticamente. Quindi devi stare fermo, in pratica. Finalmente scoperta la... Sì, c'è tutta quella cosa... C'è tipo il velelo. Il segreto della carne marcia. Esatto, esatto. Allora, cobblestone. Dovevamo fare più cobblestone, cazzo. Dovevamo fare più cobblestone. Sapevo che non bastava. Il portale. Eh, il portale. Fallo tu che c'è tutta la roba. Ma come hai fatto, creeper, a generarti in mezzo alle... Ma che diavolo? Eh, non hai messo la torcia in fondo. Non farlo esplodere che c'è la sabbia, non ce l'abbiamo altra, se no. Lascialo stare, lascialo stare. Sì, ma... Cioè, anche se posizioni un blocco vicino alla sabbia, crolla tutto, lo sai, no? Eh, infatti, quindi dobbiamo stare attenti. Dovremo fare un ripiano sotto... Oh, è spawnato un albero. Ci servirebbe quel secchiello che hai perso. Fai chi chiudere la via lì, perché non si sa mai. Magari il creeper gli gira di venire da questa parte e ci viene in culo alla sangue. Bravissimo. Perché qui c'è un blocco. Vabbè, tanto qua nessuno lo vedrà mai, quindi... No, volevo fare una riga dietro. Vabbè, fa lo stesso, niente, tranquillo. Ma perché si brucia tutto qua? Si brucia tutto qua? Eh, tutti i blocchi vanno a bruciarsi. Pensavo gli alberi come l'altra volta. Oh, guarda, guarda qua! Ah no, ce n'è solo uno, scherzavo. Ok, ok, andiamo avanti. What is going on? Allora, le torce le rimetto dentro. No, ma vai a fare in culo. Ma perché io sbaglio? Ma perché sbaglio? Ah, domanda importante. Come lo facciamo il portale? Allora, il portale... Cioè, bisogna mettere tipo il... Allora, non abbiamo spazio proprio. Mi sa che non abbiamo spazio. Lo faremo un'altra volta. È una domanda tecnica. Ah, allora, in pratica... No, non bisogna usare la lava. Bisogna usare un accendino. Non trovare del ferro, in pratica. E della gravel. Però è un po' impossibile. Guarda, lo zo... Ma che è finito il creeper? Quello si può uccidere. No, però spesso... Si è trasformato. Si è trasformato. Allora, fai una porta. Ce la fai... Hai abbastanza legna per fare una porta. Abbastanza... Sì, non ho accolto abbastanza. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora... Watch out... 106 di legno. Allora. Porta. No, no, merda. Ho finito la legna. C'è ancora legna nella cesta. Eh, la lancio qua. Oh, sì. Ce l'ha 52. Buonissimo. Ah, allora, bene. Non ti do la mia. Non ti do la mia. È bellissimo sta texture pack. Mi piace un botto. Oh, ma senza finestra. Ma che diavolo... Ma che diavolo... Ah, ma un attimo. Dopo le facciamo. Eh, ma non abbiamo le... Cioè, beh. Se vuoi farle, fale tu tanto... Faccio dei buchi, però. Sì, sì. Fai dei buchi. Fai due buchi per lato. Due buchi per lato. Va bene. Madonna, ho paura cadere. Cosa succede fuori, vabbè. Aspetta. Ecco perché volevo fare un lato ancora di più, perché se cadevo cadevo almeno di là, su un latino piccolino. Vabbè, vabbè, rischiamola. Cercherò di fare pian piano, senza volare giù, possibilmente. È rilassante Minecraft, mi piace. È tutto molto rilassante. Dove? Come mentre stai cadendo giù per... Esatto, giù per... Ah, intanto, ah, che bello. È molto rilassante. Ah, giù del precipizio. Ok. Eh, ora facciamo il tetto, va bene così? Siamo fare ancora un livello, dici? Eh... Sì, un livello, perché troppo non trovo bene, troppo da nani. What's up? Oh, no. No, no, non posso correre, mannaggia. Facciamo così. Oh, ma vaffa. Albero di merda. No, mi sa che non era l'albero. What's up, ok. No, aspetta. Facciamo... Con la sabbia cos'è? Cioè, abbiamo solo quella sabbia a disposizione. Eh, sì. Dovranno farci il vetro con la sabbia, tanto non serve a niente. Ah, no, serve per coltivare cactus. Mi sai che hai trovato dei cactus, tu? Eh, dici ne uno, sì. Che cacchio... Sta roba. Piazzati, ok. Questo possiamo toglierlo. Cerchiamo di sprecare il meno possibile legno. Meno possibile legno. Meno possibile legno, esatto. Sai che sono dislessico, non... Ah, no, io so Willy. Sai che sono dislessico? Non mi prendere in giro, dai. Che poi mi offendo. No, ok. Uh, lascia. No, è caduto di sotto. Ok, allora, lascia, lascia, lascia. Lascia? Io ne sento lascia. Lascia, lascia, sì, sì, lascia, lascia. Ah, ok. Lol. Wow. Ok. Wow, stupido albero. Ma... Ma che cazzo di alberi di merda che crescono? Fanno schifo, dai. Ma... Degli bei alberoni tipo quelli con i rami, anche giganteschi. Oh mio Dio, perché... Ma che ti ho... Sorpresa! Lol. Non mi aspettavo che cadessi. Cioè, non mi aspettavo fossile, sopravvedevo il nome e ho detto, ma che cazzo? Wow. Guarda. Ticco, ticco. Uh. Tac, qua l'albero. Tac, qua l'albero. Sì, però, quest'albero qua non mi piace pezzetto qua. Mettiamolo un po' più... Eh, un po' più... Ai! No, questo... Ah, vaffanculo, che spavento. È la... Lol. È la fame. Mi sto facendo male. Ah, no, ok, ok. Immagino. Spero che non muoio, però. Spero di non morire, perché... Aia. Oh. So che dovremmo arrivare tipo a metà vita e poi fermarci, però ogni tanto... Cioè, questo gioco è imprevedibile, quindi... Aia. Vaffanculo. Eh, questa torcia la metto qua. Questa la mettiamo sopra l'acqua. E questa qua sopra. Oh, yeah. Hai fatto le finestre? No, giusto, hai fatto le finestre giuste. Scherzavo. Ok, io direi di trasferire la cesta dentro la casa. Sì, tutto dentro la casa. Questa qui, insomma. Adesso vuole la di sotto. La craft kit box. Questa qui. No, aspetta, la cesta... Aspetta. Aspetta. Prima di buttare giù tutto è meglio farci un bordo che non cada più... Che non cada più niente sotto. Prendo un altro cobblestone? Sì, bravissimo. Anche perché io lo sto finendo. Mi sa che al prossimo episodio, ragazzi, ci riforniremo ben di cobblestone e poi... Vabbè, tanto, ragazzi, non è che possiamo stare sempre lì a... A spaccare tutto. Cioè, capiteci. Capiteci, lol. Allora, la terra è importante. Oh, oh, attenzione, attenzione. Ok, possiamo rompere sta merda di cobblestone. Sì, sì, la cobblestone, ciao. Oh, oh. Oh, Dio santo. La fornata. In questa domenica, che giornata di merda ho scelto oggi per andare a giocare a basket. Mi hanno invito a giocare a basket, c'era un vento della madonna. Cioè, ti faccio... Ti dico solo che tiravo... Cioè... Facevo un tiro e al posto di andare verso il canestro dove avevo mirato... Ma che cazzo è? Madonna. Allora, le torce possiamo lasciarle qua, tanto per adesso non servono. La carbonilla, la spada e la terra. Ok, qua c'è il pietrisco. Le assi di legno non servono più per adesso. Ah, qua c'è uno. Oh, guarda che sta per crescere la... cos'è che era? Anguria o... Un melone. Ah, sì, ok. Melone, anguria, melone. Anguria, anguria, anguria. Sì, melone lo dico. Non è la stessa cosa melone, anguria? No, melone, aspetta. Dipende, al nord, al nord è... cioè... Al nord è melone, sotto è anguria e giù. In Toscana dicono melone come se fosse anguria. Lol, vabbè. Devo chiedergli... poi ti faccio vedere un melone e voglio vedere come me lo chiamano. Forse me lo chiamano anguria. Ok, ok. Allora, sì però sei stato veramente furbo a fare qua l'ostacolo. Ovviamente hai fatto il... come si chiama? Il bordo e poi hai lasciato un gardino, no? Ma tanto... ma sì, tanto. Ah, guarda, intanto ragazzi, io, giusto per informazione, vabbè, praticamente lo sporco, il dirt, come cazzo si, il fango, ecco. Se non ha l'erba non può creare erba alta, cioè l'erba che vedete quando siete in un mondo normale è l'erba alta. E in pratica senza erba alta non possiamo creare animali. E quindi dovremmo... Io sto ancora aspettando questi animali. E quindi dovremmo avere sempre un po' di erba, questa erba qui, così non si rigenera più. Prendete se abbiamo uno di queste qua, che prima era solo in questo qui, verrà contagiata tutta l'erba vicina. Merda, ho spaccato un'altra. Ho già dei piani per la prossima puntata. Eh, anch'io, anch'io. Dei gran pianoni. Ok, io direi di fare dei... come si chiama? Uno spazio vicino alla casa. Perché ho paura di cadere vicino alla casa. È troppo proprio sul bordo, non mi piace. Managgia... Ce l'hai della cobblestone da prestarmi? Ok ragazzi, mi sa che dobbiamo salutarci perché sta venendo un po' lungo il filmato. E vi lascio salutare Fanto e poi vi saluto io. Va bene, ciao ragazzi. La prossima puntata, ricordate, se non capite cosa è successo nei precedenti episodi, passate al mio canale perché sono lì. Percenti episodi, il 3 e 4. Adesso lascio parola a Chris Daisho e l'ergia. Bene ragazzi, come ha detto Fanto, passate da lui. Ovviamente, iscrivetevi eccetera eccetera. E date un'occhiata anche agli altri video miei, se non siete pratici del mio canale, che arrivate dal canale di Fanto. Iscrivetevi se volete seguire Skyblock e niente. Ciao ciao. Ciao gente.